Maschere d'argento agli assi della rivista e radio, se è in incognito signora Magnani non faremo il suo nome e neppure dei due con Paole, volti nuovi Carlo Campanini, esci Totò sei fuori concorso, duetto mai visto, schipa e la pizzi, ma adesso l'appello ufficiale dalla pedana dei microfoni lo fa Annunzio Filogamo, per l'occasione da Porto tenta nuove possibilità del microfono, la trasmissione di una spaccata, la barzizza trasmette baci, per Chiari la serata è decisamente bellissima, le dieci canzoni da salvare sono almeno 100, eccone una salvata da Taglioli Un famoso duo singolo, Billy e Riva Ma se non sto manca a parlare quale parole tu mi vai a schercare . . mi attenzione . 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 Grazie